Un micro-spine di spostino elettronico costituito essenzialmente da un approvato trasmettitore che grazie all'utilizzo di un microfono consente di captare le conversazioni all'interno di un ambiente e di trasmetterle utilizzando le onde radio. Questi tipi di micro-spine consentono l'ascolto solamente se si è nelle immediate vicinanze dell'ambiente da sorvegliare, mentre con le nuove tecnologie è possibile realizzare le micro-spie GSM. Queste ultime possono essere controllate con uno smartphone o in generale con un cellulare e permettono di inviare le informazioni captate chiamando un cellulare il cui numero è stato impostato precedentemente. A differenza delle micro-spie tradizionali, con quelle GSM è possibile ottenere con un microfono ultrasensibile la replica fedele delle conversazioni anche a migliaia di chilometri di distanza grazie alla loro copertura illimitata.